La casa con la scaga nel buio, 1983, come è nato questo progetto? Il progetto nasce, era un film, diciamo, era il mio secondo film, sì, il mio secondo film doveva essere un film horror a basso costo, questo sicuramente. Mi sembra, ho passato i vent'anni, mi sembra di ricordare che Sacchetti mi chiamò un giorno e dice c'è una storia, ho scritto cinque pagine, volevo sapere se ti piace e io la lessi e mi piacque subito come film. L'aveva portata anche a Luciano Martino che è stato poi il produttore, anzi Luciano Martino lo passò a Minoloi, nel senso che erano due produttori che lavoravano sempre insieme e siccome il film si poteva, allora Martino aveva a quei tempi una villa che aveva appena comprato che io andai a vedere con lui e siccome l'attinenza era, c'è una villa anche nel film dove praticamente avvene l'80 al 70% del film e decidemmo di fare quel film girandolo in quella villa con, mi sembra che girai, se non sbaglio, tre settimane e tre giorni, una cosa del genere, i tre giorni erano i due giorni fuori per fare il ricordo della palla, la cantina, una cosa del genere e qualche altra cosa da qualche parte in esterno, per il resto era tutto la villa e fu girata tutto là. Come è nata la casa con la scavata nel buio? Nasce su una telefonata di Luciano Martino che mi dice ho comprato una villa che adesso è vuota perché per poterla abitare devo fare dei lavori, è stato un affare, vorrei sfruttarla come un set, valla a vedere, io vado a vedere questa villa e ci trovo dentro Gianni Saragò che era il suo direttore di produzione che stava facendo Zola la Vampira, stava facendo un film e stava già sfruttando la villa come set. Villa sopra Ponte Milvio, 900 metri quadri di villa moderna, molto moderna all'americana, è un ettaro di giardino a prato inglese bellissimo, con una piscina bellissima, villa con molte stanze, molto vagliegata, molto ricca. E lui mi disse io devo fare un film da girare tutto dentro la villa in due o tre settimane, non mi ricordo ma potrebbe essere addirittura due settimane, che deve costare pochissimo, 200 milioni e via. Ce la fai? E ho detto vabbè ci penso. Ho tirato giù un'idea di soggetto, gliel'ho portata, andava bene, mi ha dato via la sceneggiatura. Il film aveva una doppia destinazione, perché doveva essere, possibilmente doveva andare in televisione, dove dovevano essere degli episodi di 25 minuti l'uno, una cosa del genere. Quindi quando scrivemo la sceneggiatura, quando il primo input era, ogni 20 minuti deve succedere qualcosa, perché se no poi lasci la puntata. Poi appena finito di girare il film, al primo montaggio di televisione non se ne parlò più e si fece un film, assemblando tutti i pezzi. Devo anche dire che io, forte dell'esperienza del mio primo film, che era stato Macabro, che come film, forse come qualità, pensiero e altre cose, era superiore sicuramente, perché era un film molto più elaborato, molto più contorto, che nasceva da un'idea vera, girato parte anche in America. Però aveva una cosa, che anche se abbastanza durello, era un film che alcuni produttori, che poi avevano cercato di lavorare insieme, avevano sempre detto, però quel film lì era troppo disegnato bene, però in fondo c'era poca grinta. Allora, un anno e mezzo dopo, casa con la scala nel buio, dissi, beh, qui adesso di grinta, mettiamocene poi, mettiamocene anche un po' tantina, facciamolo anche un po' abbastanza efferrato, poi vediamo se va in televisione, taglieremo, se no, intanto poi tagliare c'è sempre tempo. Quando si descrive la sceneggiatura, la prima stesura, lui mi ha chiesto chi potrebbe essere il regista di questo film. Allora, io ero molto amico di Lamberto Bava, che aveva debuttato con Macabro, un film prodotto dai fratelli Avati, e che era un anno e mezzo, due, che non girava più, non lavorava, era un momento di stanca del cinema italiano, cioè, da fine degli anni di Piomo sono stati un momento di grossa crisi del cinema italiano. Io proposi di Lamberto, Martino accettò con grande entusiasmo e partì questo film, che era, come spesso accadeva, di solito la scommessa, cioè riuscire a inventarsi una storia, a girare tutto dentro una villa, senza uscire mai da quella villa. Far sì che in questo film ci fosse una giustificazione perché i personaggi fossero dentro la villa, ci fosse un giallo, ci fossero comunque degli effetti e non ci si stancasse mai. Lamberto accettò con entusiasmo di fare questo film. Lamberto poi, quando ci si mette, è uno saccanovista del lavoro ed è un entusiasta come un bambino, cioè non sta a guardare se il film è ricco, è povero, gli piace proprio stare su set e girare e fare delle cose. Lo ha rifatto anche adesso ultimamente, per esempio, con The Torture, che è sempre un film prodotto da Martino e che ho sempre scritto io tra le altre cose. E quindi lo ha a fare in questa circostanza qui, con un cast tutto sommato, considerando il bassissimo budget e tutto, molto dignitoso, Andrea Occhi Pinti, Michele Soavi, La Papa, un sacco di gente con un nomino apposto. Continuando il discorso precedente, quindi le ferratezze, c'era soprattutto, diciamo, la morte di una delle ragazze, che l'assassino, insomma, c'era una bella, mentre una stava, mentre si stava facendo uno shampoo ai capelli, andava a prendere la bottiglietta dello shampoo che non trovava e tastava con una mano il posto dove si avrebbe dovuta essere, entrava in campo con una coltellata che gli, diciamo, gli crocefigeva la mano e mentre poi gli veniva il film, insomma, era abbastanza, abbastanza cattiva, insomma. Più che cattiva e nello stesso tempo, direi, terrificante. Ecco, quel film, in alcune cose, era un po' terrificante, che già la cosa, il bagno evoca tante cose nel cinema, no? La possibilità di soffocamento ancora di più, però una che per cercare di liberarsi la faccia si fa staccare la mano da un coltello infigato, insomma, è abbastanza, è abbastanza, dà abbastanza fastidio, insomma. Le hai citato appunto il bagno, un luogo pericoloso, tutti pensano alla doccia di Psycho di Hitchcock e voi in qualche modo l'avete citato Hitchcock in questo film con la figura dell'assassino, che era Michele Soavi, che si vestiva da donna. Sì, sono quelle cose consapevoli e inconsapevoli, perché poi, ecco, sì, Michele Soavi, che era il mio aiuto in quel film, tra le altre cose, che si vestiva da donna, e la cosa molto bella è proprio sulla ricerca del personaggio assassino, perché l'assassino doveva essere una donna visivamente, visivamente, infatti, si vedevano le scale, vedevi il coltello e poi vedevi i tacchi a spillo femminili che si arrivano le scale, e poi alla fine era un travestito, praticamente. Ma la figura del travestito nei film miei non è... Fantaghiro, fatto per la televisione, Fantaghiro è un travestito, non è altro che perché è una donna che si deve vestire da uomo per far vedere che vale, insomma. È tutto un altro discorso, però c'è questa ambiguità, diciamo, un'ambiguità che ritorna, insomma. Dicevo di Michele Soavi, che era il mio aiuto, e stavamo, vedevamo per questo personaggio, perché io dovevo pensare a una persona che, uomo, che quando lo vedevi uomo non pensavi che potesse lui essere una donna, che però avesse la possibilità che il vestito da donna non facesse orrore oppure che fosse finto o fosse un travestito veramente, doveva essere una donna, non un travestito, perché quello era lo scatto finale. E mi ricordo che io vedevamo tanti attori che per vederli facevamo provare qualche indumento femminile oltre che alla recitazione, e ogni volta che ne vediamo qualcuno che sulle fotografie o d'amicizie potrebbe essere valido, come lo vedevi con qualche cosa, non è possibile. Disperati a tre giorni dall'inizio del film, io non sapevo che fare, Michele mi faceva vedere le foto, io mi ricordo che proprio la faccia si voltò come l'assassino verso Michele che stava lì e lui mi guardò e vide il mio sorriso e io gli dissi Michele che facevi prima di fare l'aiuto regista? E lui mi faceva no, no, nel senso che Michele faceva l'attore. Poi lo fece, lo fece anche molto bene, perché devo dire la morte alla fine con il rossetto struccato, un po' travestito a quel punto, era abbastanza efficace. La cosa più bella che mi ricordo è che quando c'era, a un certo punto, che trovava lui in una valigia, non mi ricordo perché, in una cantina, la priva e trovava degli indumenti da donna che poi erano quelli che si metteva l'assassino, mettemmo lì per lì la roba vera che metteva Michele quando faceva la parte e io aprendo la valigia, vedi queste scarpe col tacco 43, dico no, amiche, questo sgavano, mettiamolo in paio più piccole, perché se no, se no è tutto, vedi una scarpa così, dice, non può essere che un travestito. Suavi è l'assassino del film che uccide, messendosi la donna, che è uno stratagema, insomma, che abbiamo già visto al cinema, in film come Psycho Ditch, come Invisito per Ucciderli, da Palma. Il vostro quindi era anche un omaggio, in fondo, a questi film? Ma sicuramente rispetto a Psycho non avessi io per uccidere, che è successivo. È successivo? È successivo. Ah, è vero, sono arrivati prima a voi. Siamo arrivati prima a noi. È vero. Ma guarda che spesso alcuni film scritti da me sono arrivati prima di due o tre anni e non è stato mai riconosciuto. C'è un film di Fucci, per esempio, che è stato copiato, che è quello dei gladiatori, nel 2017. quello è uscito due anni prima dell'uomo che corre. Tanto per non parlare di altri, no? Ma... No, lì è l'omaggio a Hitchcock, cioè papà, papà. Quali erano le maggiori difficoltà nel dover girare un film praticamente sempre nella stessa location? Ma io diciamo che questo... Io ho questa presunzione, io mi trovo meglio. Oltretutto... Io ho due... Dico... A me mi piace di più girare in un posto chiuso o da un posto aperto. Diciamo, posto aperto vuol dire una spiaggia, un posto largo dove non hai appoggi di inquadratura. per me... Io sono molto tecnicamente... Mi piace molto girare tecnicamente con la macchina da presa, muovere... Una casa mi dà... Una casa che sia strutturata cinematograficamente o sia a gabbia degli... Ecco, per esempio, dove stiamo noi è abbastanza cinematografica perché non hai la stanzetta a tre metri per due. Sei in un ambiente che dove ti muovi puoi avere varie possibilità di inquadrare una persona e una cosa del genere. E quello per me è sempre una cosa positiva. Nel senso, non è la prima volta ho fatto... Per dire, forse il mio film più noto, Demoni, è tutto in un cinema. Altri film, anche piccolini, c'era sempre un'unità d'ambiente. L'unità d'ambiente perché è un po' una scommessa che faccio con me stesso di riuscire a non far mai la stessa inquadratura in una camera. Ecco, che è un po' la verità perché è difficile, almeno che non mi piaccia a un certo posto, allora ci ritorno. Però, diciamo, ecco, muovermi in un ambiente chiuso mi è molto più familiare e mi elettrizza di più, sicuramente. Ti ricordi di aver inserito anche altri omaggi a qualche tua passione cinematografica o letteraria? Guarda, gli omaggi li inserisco in continuazione. Mi piacerebbe una volta potermi fermare per fare una sorta di mappa e fare una sorta di gioco di quiz per girare. Vedete quali... Vediamo chi riconosce cosa c'è e cosa non c'è. Gli ho sempre messi tantissimo, sia cinematografici e sia molto... Cioè, io ho sempre fatto o citazioni molto dichiarate, oppure degli omaggi miei personali. Per esempio, nel primo film che io ho fatto con Mario Bava c'è a un certo punto lo squonk. Lo squonk è una figura che viene dal manuale di geologia fantastica di Borges che io ho letto e ero pazzo in quel momento lì di Borges, Cortasa, di tutta una letteratura sudamericana. Allora, lo squonk è questo animale che vive solo di notte, che piange ma non si sente, che cammina ma non si vede, no? Che fa paura ma è amichevole o che cosa. Cioè, io mi ricordo che quando Bava mi disse ma cos'è sto squonk? Io glielo spiegare, era un giochino che mi piaceva. Lui dice non ho capito un cazzo, scusate il francesismo, ma mi piace il nome squonk per cui lo teniamo perché mi piace il nome squonk. E' un film che mi ha lasciato dei ricordi positivi, diciamo, un po' per l'ambiente, un po' per la gente perché eravamo tutti alla prima esperienza, portai con me Lorenzo Battaglia, l'operatore che avevamo fatto un documentario in giro per l'Europa e basta al primo film per dire quanto eravamo giovani e quanto eravamo pieni di speranze e poveri nel senso cinematografico, mi ricordo che avevamo una macchina da presa 16 mm, l'unico film che ho fatto in 16 mm di tre parentesi, perché poi l'ho fatto tutti poi in 35, dove c'avevamo solo lo zoom, siccome io non amo lo zoom ma amo gli obiettivi, riuscimmo da amici a farci prestare due obiettivi, questo insomma per far capire come era fatto il film. Tutti attori abbastanza bravi, ragazze giovani, piene di voglia di lavorare. ed è un film, in qualche modo pulito, dove c'è la scena della palla. La scena della palla è una cosa che io l'ho messa in tre o quattro film diversi. La scena della palla nasce in questo modo qui. Nell'80 io incontro Dino De Laurentiis per una storia che aveva proposto a lui, mia, che aveva proposto a lui Aurelio De Laurentiis. Gliela racconto, a Dino non piace. Dopodiché si creava una certa situazione, allora Dino mi dice ma dai, tu sei uno scienziatore, magari hai un'altra storia, raccontami un'altra storia. E io gli raccontai. Casa di campagna, notte, tre bambini, porta della cucina sprangata, viene aperta questa porta, il bambino cattivo getta giù la palla e dice a bambino buono adesso la vai a prendere per dimostrarmi coraggio. Il bambino scende, quando sparisce in fondo al buio si sente un urlo, poi la palla viene suffischiando, batte contro il muro lasciando macchie di sangue. Dino fa ah, bellissimo, il resto della storia me lo viene a raccontare a Londra la settimana prossima. Io sono andato la settimana successiva a raccontare il resto della storia e sono rimasto un anno a lavorare con Dino De Laurenti. Poi il film non si è mai fatto perché nel frattempo andati in America cambiando, prendendo come regista Damiano Damiani il film diventò Amityville The Possession e quindi la cosa cambiò. A me rimase sta scena che a me piaceva e quindi la misi in un paio di soggetti perché poi c'è anche il film di Fucci adesso mi ricordo se la casa accanto al cimitero o un altro c'è sempre la scena che la casa accanto al cimitero che poi scendono giù a trovare e l'inizio e l'inizio e quindi c'era questa scena della palla che poi nella villa moderna in realtà veniva abbastanza male e non è così efficace come io mi immaginavo che fosse nella villa accanto al cimitero però c'era questa storia del pianista c'era la musica c'era una serie di piccole cose per cui alla fine è un film gradevole è un giac che io ricordo con piacere ed è anche il film in cui Lisa e mia moglie hanno collaborato con me il primo film in cui collaboriamo insieme alla sceneggiatura di scrivere questo film abbiamo detto che questo era un film low budget ma a quanto montava più o meno il budget di questo film? ma è un low budget che oggi non è quasi più un low budget nel senso che per quello che è rimasto del cinema che si fa diventerebbe quasi un film che dici mamma mia si può fare perché oggi low budget vuol dire veramente molto meno ecco quello sicuro costò 2 lire perché io ho presi 2 milioni per fare la sceneggiatura c'eravamo in 2 prendemmo 2 milioni allora non so quanto prese Lamberto ma credo che prendesse al massimo abbia preso 5 milioni o forse anche meno credo che tutto quanto il film per quello che si dice a copia campione costasse 210 milioni ma quindi che tipo di attrezzatura avevate? quante macchine da presa per esempio? mezza ho detto un 16 millimetri però un 16 millimetri con almeno c'avevo 2-3 obiettivi facendo per riprestare ma ce l'avevo oggi insomma ti dicono no io ho fatto apposta un'esperienza adesso digitale per avere per avere un'esperienza digitale se no ti dicono quello non sconosce il digitale invece ormai conosco il digitale so che bestia è so quali sono i pregi e quali sono i difetti poi come tutto nella tecnica è in continua evoluzione però ancora oggi io penso che la pellicola ha qualche punto in più del digitale più che linea a qualche punto diciamo come l'atmosfera sul set non me ne sono accorto perché era talmente veloce il film che non ti potevi fermare mezzo secondo era un film da orari bestiali fare un film in tre settimane in mezzo poi io non sono uno che non fa le inquadrature ne faccio quindi devi lavorare non puoi star fermo però insomma parliamo eravamo tutti giovani abbastanza e quindi pieni d'entusiasmo come sono io anche tuttora cerco di usare molti giovani perché i giovani portano quell'entusiasmo senza il quale il cinema non si può fare il protagonista assoluto del film è Andrea Occhipini sì abbiamo scelto un attore ecco ci voleva un attore di un certo tipo fuori da certi schemi con una certa recitazione allora prendemmo proprio Andrea penso che uno dei primi film che faceva a quel livello era abbastanza giusto perché il film era tutto tutto lui doveva essere un intellettuale quindi giusto come parte giusto come personaggio e nello stesso tempo era uno che doveva essere un po' piacione ossia uno che piaceva le donne e Andrea un bello un bello però un bello sempre sull'intellettuale perché era un musicista quindi quello era però ecco la scelta mi sembrava abbastanza ma io penso che ripensandoci dopo 20 anni perché sono anche più dell'83 dopo più quasi 25 la scelta anche per il forse rivedendo non lo vedo da un po' di tempo però ecco la scelta degli attori era abbastanza certo uno poi parliamo sempre di attori di un film di un certo tipo a basso costo insomma poi certo che ma anche le ragazze come dicevo prima sono tutte abbastanza giuste sono tutti erano tutti poi abbastanza consapevoli la recitazione anche era abbastanza accurata diciamo parlando degli attori Andrea Occhipinti all'epoca un giovane attore adesso un produttore di successo ma come era Andrea Occhipinti nell'83 esattamente come adesso cioè un ragazzo per bene che si vede che viene dalla buona famiglia credo che il fratello il cugino siano addirittura ambasciatori o qualcosa del genere molto pulito molto tranquillo nessuna io ho conosciuto attori nevrotici perché l'ansia di diventare attore il tormento dell'attore ecco Andrea questo non ce l'aveva fatto anche vero che appena potuto ha smesso di fare l'attore si è messo a fare il produttore distributore ma questo a posto io si capiva già allora che avrebbe cambiato mestiere che non voleva fare diciamo l'attore persona per bene tranquilla pacata molto ben educato non si parlava quasi mai né del copione né della sua parte quelle quattro volte che l'abbiamo visto faceva il suo lavoro con molta coscienza senza problemi quello che a me destò più impressioni invece era suavi che io vedevo per la prima volta non sapevo neanche chi fosse lui arrivava con la sua Triumph Dolomite che era questa macchina stranissima a cui lui aveva personalmente modificato il motore per farla più pesante e si era messo nelle pause appesantiva gli ammortizzatori dietro con del cemento lui faceva questo cemento a presa rapida per renderla più stabile per le curve quindi io vedo questo ragazzino che secondo me non aveva neanche 18 anni perché Michele allora sembrava veramente un ragazzino di 15-16 anni che stava sempre intorno a questa macchina piazzata davanti all'ingresso della villa con chiavi inglesi marteglie in continuazione lui ha passato tutto il tempo del film a sistemare la macchina e aveva poi un bilanciere nel portabagagli di quelli per fare i muscoli fatto con un'asta di ferro due barattoli dentro del cemento cioè il bilanciere dei poveri considerando che poi Michele il povero non è allora questo fatto di vedere questo ragazzo che nelle pause che poi aveva una parte piccolissima Michele poi non so se di tu faceva anche già d'aiuto a Lamberto o meno perché poi uno che faceva di tutto faceva pur di lavorare e darsi da fare era molto disponibile nelle pause quando stava solo stava lì intorno alla macchina si metteva abbassava le candele le cose cioè poi per me sono cose turche perché per me la macchina era una cosa dove tu infine una chiave gira se non gira la butti e ne compri un'altra vedere questo invece appassionato mi mi aveva incuriosito molto gli altri attori sai dentro sta casa dove non ci si muoveva c'era questa bella cucina si mangiava perché poi noi stavamo lì perché chiaramente essendo un film fatto in un certo modo c'era bisogno di fare correzioni al volo perché magari qualche cosa non corrispondeva alla casa qualche passaggio qualche cambiamento c'era un'atmosfera di quel tipo di da scampagnata quasi da gita in Montè da vacanza perché stai dentro la villa c'era la piscina c'era il prato c'era tutto c'era tranquillo stavi lì l'amberto ogni tanto girava girando in stanze normali piccole quindi non è che ci potesse essere la gente a guardare a fare c'era giusto il posto per gli attori che recitavano per la macchina che hai preso o che cosa si girava per la vita si guardava c'era bello qua qua io farei la mia stanza e allora la situazione idilliaca guarda è veramente uno dei film meno stressanti che io abbia mai fatto nel cast c'era anche una sua vecchia conoscenza stanco molnardi stanco molnardi sì ma è logico che ci sono sempre degli attori che io come tutti i registi degli attori si rimani legato e li ripresenti stanco molnardi stanco molnardi è un attore che ho usato nel mio primo film magabro dove ha fatto il prototipo che faceva un cieco un attore di una sensibilità devo dire e di una recitazione oltre di una bellezza a quei tempi veramente a los afan fratelli italiani ce lo ricordiamo ancora stanco molnardi anzi io lì l'avevo visto e mi era rimasta impressa questa faccia sì stanco molnardi che faceva il guardiano perché mi servivano degli occhi scrutatori e poi non è che faceva una parte enorme faceva un guardiano è come in tutti questi film di questo genere che devi cercare di dare dei sospetti per poi per poi levare la verità da chi è l'assassino perché non è che puoi poi non è un film che ci stanno 300 personaggi ce ne stanno 5 che vedi quindi uno di quelli e usai stanco monna per fare il giardiniere sì poi l'ho ripreso pure in un film mio che ha avuto scarso no successo nessuno non si può dire che non è mai uscito perché era la maschera del demonio remake del film di mio padre che non ho mai capito perché non è mai non si è mai visto da nessuna parte praticamente dove lui faceva una grandissima parte mi piaceva molto anzi lo costrinse addirittura in quel film lì a farsi tagliarsi i capelli quasi a zero decolorandoli cosa che per l'epoca un attore mi ricordo che modiò per un mese poi ci aveva preso gusto mi diceva ancora sempre nel cast c'è la fidanzata di Andrea Occhipinti la bellissima Lara non so pronunciare il cognome Nazinski no di Andrea Occhipinti era la fidanzata di Klauski ossia di Andrea Occhipinti nel film ah sì la fidanzata del film di Andrea Occhipinti sì c'è queste cose Lara Nazinski era un'attrice tedesca che a quei tempi stava a Roma perché faceva provini e cose e io la vidi aveva mi ricordo che ho fatto un provino oltre ad essere molto bravina aveva questo primo piano veramente stupendo bella attrice brava che però penso non fece molta strada adesso non so magari però non credo però devo dire che ecco mi sembra che l'aveva usata anche in un altro film non me lo ricordo quale però è un'attrice che mi ossia era una di quelle che la sensazione di paura te la dava ma lei che comunque conosce il digitale l'ha utilizzato e sa bene di cosa si tratta pensa che sarebbe possibile girare un film come questo adesso in digitale quali sarebbero le differenze principali fra poche pochissime ossia dipende perché poi c'è digitale ossia girando il digitale bene non c'è qual è la differenza del digitale ancora e del cinema oltre della riversione che ha dei costi e se serve o meno è se hai delle scene in pieno giorno con grande contrasto viene male quel digitale ossia il film che ho fatto cinque mesi fa o sei non mi ricordo Torturer era pensato sulla carta tutto di notte e tutto in interno non tutto sempre di in interno di esterni notte e interno perché se vai a fare le scene ecco il digitale non va bene su una cosa che a me piace molto nel cinema è il controluce per esempio controluce per il digitale è un botta in un occhio insomma a me per esempio quando vai a girare l'esperienza mi viene da film girati nei boschi il bosco se non lo prendi in controluce è piatto ecco col digitale penso che avresti dei problemi perché le zone dove batte più il sole è un problema poi questo lo diciamo adesso tra sei mesi forse non sarà più così però per ora è questo quello che ti dà i vantaggi sono però incredibili sono incredibili nel senso di post produzione sicuramente io per esempio in questo film ultimo che ho fatto che è un film molto di coltello ecco il coltello io non l'ho mai avuto nel film è stato sempre aggiunto dopo nel senso che avevamo chi stringeva il coltello aveva il manico del coltello in mano con un pezzettino di lama dipinta di verde con tre pallini e poi è stata messa dopo la lama questo perché perché in certi effetti tipo le coltellate quelle che una volta come nel film quello lì c'era il coltello famoso rientrante il coltello rientrante è sempre un coltello che se è così può rientrare questo pezzetto qua perché questo pezzo deve andare nell'altro quindi quando dai una coltellata col coltello rientrante è sempre una mediazione tra il colpo non può mai essere troppo forte perché se lo dai troppo forte rischia che non diventa più un coltello rientrante ma un coltello entrante quindi ecco in questo caso qui ha questi problemi il digitale ha questi vantaggi ha dei vantaggi enormi a me anche io sono uno che a me piace il colore il colore mi piace duro vero contrastato però se vai a fare un film tra i colori le possibilità di sfumature i colori bassi le tonalità il digitale ha delle belle tonalità questo 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 sì questo sì è diverso un po' io per esempio adesso sono diventato un amante delle foto digitali perché mi piace fare le foto questo però ecco ho la mia stampante me le stampo le cambio un po' perché questo è il bellissimo del digitale però oggi non è che anche sulla pellicola fai la stessa cosa perché se tu con la pellicola la mandi dentro una macchina fai gli stessi lavori poi diventano più ma sai questo è dipende sempre dal tipo di film che fai in tutti i casi oggi il digitale esiste è una realtà è una realtà che ancora però non c'è dici è meglio il digitale che la pellicola per alcune cose è meglio la pellicola per altre digitale è tutto più e come fu accolta la sua uscita non particolarmente non particolarmente bene perché diciamo che il Luciano Martino è sempre stato un produttore estremamente prolifico soprattutto in quegli anni partiva credendo nei progetti senza badare troppo a quello che sarebbe successo dopo con molto coraggio curava poco secondo me l'aspetto distributivo in parte perché lui aveva una distribuzione maggiore che non era la sua che era la medusa dove c'erano Puccioni e Colaiaco che in quel momento lì era una distribuzione importante di serie A e aveva dei film grossi fa conto pane e cioccolata tanto per dire il primo che mi viene in mente che è proprio di quegli anni e che quindi prendeva in distribuzione questi piccoli film perché doveva fare i pacchetti sai come tu hai sempre una grande distribuzione distribuisce 15 milano di cui ha due o tre capofila e poi dietro ci mette della roba che serve per occupare le posizioni di mercato raccattare un po' di soldi e via qualche volta Luciano si distribuiva anche da solo perché poi Luciano c'era sia la distribuzione che no ma questi film normalmente lui li faceva per l'estero e quindi il problema era risparmiare su copie e pubblicità quindi di solito io faccio un film che costa 210 milioni i 200 milioni li recupero dalla distribuzione che mi li dà e quindi io ho coperto il costo film con i soldi della distribuzione l'estero è tutto guadagno netto in più la distribuzione al film per 200 milioni recupera attraverso sia quella che è la percentuale di distribuzione sia con il fatto di recuperare quanto il resto quindi erano film che venivano fatti non per l'opera quindi non per andare sul mercato e guadagnare al box office una posizione erano fatti commercialmente per tenere come se tu facessi del dumping cioè hai un surplus di produzione che devi piazzare in un certo modo quindi per concludere 23 anni dopo cosa era rimasto la casa con la scala nel buio fa parte di quella mia diciamo di quel mio diciamo ecco ci sono dei tipi ecco fa parte di quei film che ti piace fare più che altro per farli però a livello sono quelle storie che dici una volta dicevo ci sono dei tipi di film che va bene farli per la televisione e non per il cinema questo ai tempi della casa della scala avrei detto questo oggi ti dico ci sono delle storie che fa piacere a te raccontare ma che sai che ci manca qualcosa perché vengano dei capolavori capolavori sempre parlando di film che facciano impressione insomma che facciano epoca di solito non è che ti leggi cento storie quelle che possono fare epoca sono una su cento io ho fatto caso che di film che mi sono che alla fine mi hanno dato qualcosa di differente te ne capita uno ogni sette otto anni poi se te ne capitano più uno ogni tre anni vuol dire che sei molto più geniale te o chi lavora con te poi ci sono dei film che ti fa piacere fare che fai anche bene che danno anche dei buoni risultati tipo La scala nella scala nel buio quello che mi ha fatto capire La casa con la scala nel buio che ci sono ognuno di noi ha varie personalità fa parte di quella mia personalità un po' più più efferrata più più cattiva un po' la casa con la scala però nello stesso tempo è quel tipo di film che io ho sempre un concetto quando faccio i film non mi va mai di fare i film io sono sempre uno che racconta le favole quando fai i film ossia non è il reale è sempre un reale cinematografico non è un reale che avviene nella vita anche perché per me la paura è una cosa che è bella avere nel cinema quando vedi un film però se poi hai visto il film e torni a casa hai paura perché ti segue l'assassino vero non è affatto paura non è una pulsione positiva la pulsione positiva è quando hai il brivido nella schiena perché vedi un film o perché leggi un libro però se è vera perché c'è qualcuno che ti fa allora oddio è un altro paio di maniche infatti io film una volta lo devo fare lo dico sempre mi avevano proposto il mostro di Firenze e io quelle cose lì non mi piacciono perché sono vere andare a fare un film sulle cose vere mi fa un po' ribrezzo perché sono cose che non mi piace che succedano insomma a fare un po' paradiso molto caro 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 paradiso molto caro